Come si può vedere va molto bene, c'è grande partecipazione, stiamo entrando nel vivo con questo fine settimana. La gran parte della provincia dell'Aquila, a cominciare dalle città più grandi, dal suo capoluogo, l'Aquila, Vezzano, Sulmona e tanti altri centri, oggi stanno procedendo a questo screening massivo, la prossima settimana ci si trasferisce sulla provincia di Teramo. La regione Abruzzo è la prima regione in Italia, dopo la provincia autonoma di Bolzano, a dare la possibilità ai propri cittadini e alle amministrazioni comunali di procedere a questo vero e proprio setaccio per intercettare preventivamente e precocemente le persone positive che magari essendo asintomatiche sono difficili da individuare, non vengono individuate nei normali percorsi di tracciamento e che quindi continuano a potenzialmente contagiare tante altre persone. E così pensiamo che questo sia uno strumento molto importante, ne ho parlato anche con il Ministro, perché l'esperienza della regione Abruzzo potrà diventare, insieme a quella dell'Alto Adige, una sorta di progetto pilota sul quale mettere in campo una misura simile sul territorio nazionale.